Buongiorno da Porto Viro ma in particolar modo da Marina di Porto Levante. Siamo qua davanti appunto alla Darsena perché sta partendo una bellissima quattro giorni di pesca al tonno e naturalmente per capire questo ci facciamo spiegare il tutto da Paolo Comunian che è il direttore di questa Darsena. Eccoci qui a Marina di Porto Levante per presentare questa gara ormai diventata anche abbastanza importante a livello quasi internazionale perché ci sono anche imbarcazioni che vengono anche dall'estero e quest'anno ci sono circa 50 barche e la gara dura due giorni anziché un giorno che durava gli altri anni e le barche sono fuori mare ci sono delle ferrate e i tonni vengono lamati misurati in base a poi la misurazione vince chi prende più pesi diciamo. Ah quindi vengono poi liberati i tonni? Sì vengono liberati. E il premio? Al di là della solistruzione vi arrivano primi? Sì, sono dei piccoli premi in denaro e poi attrezzatura da pesca. Musica Grazie a tutti.